La primavera dell'arte promossa dal gruppo Geloi Trischelion di Gela raggiunge un altro obiettivo. Ieri nei locali del museo è stata inaugurata una mostra archeologica con reperti inediti. I beni sono custoditi all'interno di alcune vetrine offerte dal Kivanis Club. Noi come Kivanis riteniamo giusto agire sul territorio e nel territorio. Quindi in questo caso donando queste vetrine vogliamo essere presenti nel territorio e specialmente in un territorio come il museo archeologico di Gela che secondo me rispetto a tante altre cose non ha i meriti che li spettano per i reperti archeologici che ci sono non solo esposti ma che ci sono conservati che sono più di 5.000 reperti. Speriamo che anche altri ci seguano come esempio per valorizzare sempre appunto le risorse che ci sono nella città. Anche perché in un periodo di crisi galoppante a Gela con la chiusura della raffineria si deve puntare sul turismo. Speriamo di sì, speriamo anche come un'altra risorsa che si aggiunge a quella esistente. All'iniziativa di ieri erano presenti gli alunni dell'eliceo artistico di Gela, Ettore Majorana. I musei visti come grandi cassaforti che contengono beni straordinari dal punto di vista artistico, culturale. Questa cassaforte con mille lacciuoli, codici segreti il cui accesso è consentito solo a specialisti del settore va cambiato, deve diventare un grande scrigno straordinario, magico da scoprire in modo ludico. Infatti i ragazzi nei prossimi anni dopo questo momento di conoscenza dei beni si occuperanno di realizzare, inventare giochi da sottoporre ai ragazzini delle scuole elementari per scoprire questi beni in modo appunto ludico e divertente. Le iniziative della primavera dell'arte continuano. Il 21 maggio si chiude con un grande evento, la visita notturna delle fortificazioni greche di Capo Soprano. Ci saranno ragazzi del gruppo teatro, dei geloi e si farà questa visita che sarà molto particolare attraverso degli effetti scenici unici, quindi vi invito a partecipare, l'ingresso è gratuito.